questa heme noi oggi potremmo anche tradurla ciò che era secondo la più vera pulizia mentale cioè non ci sono dietrologie in quello che lui ha fatto vediamo secondo samuele 7.28 ora signore dio tu sei dio u debareca debarin più ca quindi debareca le parole tue sono è una traduzione italiana mentre invece si trovano sono consistenti sono verità sono hemet le tue parole sono verità oppure sono parole che si adempiono non sono parole che promettono e non si adempiono quindi sono parole e sono verità perché ciò che tu prometti si compie è un atto di fede che sta facendo hai fatto al tuo servo queste belle promesse ora se noi facessimo la antropologia profetica scopriremo un dato importante per l'orientale quando il profeta annuncia una profezia che si adempirà parecchio tempo più avanti questo non è il vero adempimento questo è il completamento di un adempimento che è cominciato quando la parola è stata pronunciata quando il profeta fa una profezia che riguarda il futuro questo futuro è già presente questo strano modo di concepire le cose che non ci è familiare viene chiamato prospettiva profetica è come se tra il momento della profezia e il suo adempimento ci fosse solo un vetro che separa le cose ma questo vetro impedisce di vedere la quantità di tempo che intercorre tra profezia e adempimento è come se la cosa fosse schiacciata una sull'altra forse le mie parole non sono adeguate per spiegare questa mentalità ebraica la prospettiva profetica toglie il tempo tra profezia e adempimento tanto che il profeta vede l'adempimento avvenire subito dopo anche se magari bisogna aspettare secoli ma perché? perché il concetto è che l'adempimento incomincia nel momento in cui la profezia viene pronunciata noi invece diciamo no tra il dire e il fare loro no e quindi qui abbiamo un'altra discrasia tra noi e la mentalità orientale per cui il nostro amico dice le tue parole sono verità perché nel momento in cui tu le metti in bocca al profeta esistono come adempimento quindi delle tue promesse mi fido ciecamente queste però sono categorie nostre la categoria orientale è le tue parole sono geset quindi le tue parole sono sincerità onestà verità giustizia lealtà fedeltà infilateci dentro anche la parola adempimento possiamo dire affidabilità mettiamoci dentro anche quello ma sono tutti concetti che ruotano attorno al concetto ebraico di emet michea come notate tra il profeta michea lo vedremo subito e geremia geremia lo abbiamo citato per la geset michea lo stiamo citando per la emet ma tutti i due vanno d'accordo sullo stesso concetto conserverai a giacobbe la tua fedeltà il profeta sta parlando di dio e gli sta dando del tu conserverai giacobbe sarebbe il popolo ebraico conserverai a giacobbe la tua fedeltà emet cioè la verità delle tue promesse ad abramo il tuo amore emet geset geset qui io ve lo tradotto con amore perché non si può ripetere la fedeltà l'ebraico adopera due parole noi non possiamo adoperare due parole identiche dobbiamo adoperare due parole diverse come adoperato l'ebraico come hai giurato ai nostri padri fin dai tempi antichi dunque dio mantiene la emet e la geset però in questo caso il concetto di geset è si rifà a geremia dove la geset è abba l'amore sono in parallelismo sinonimico qui invece di avere abba parallelismo sinonimico con geset avete geset in parallelismo sinonimico con emet bel pastrocchio ma mi piacerebbe chiudere questa piccola esplorazione con il senso del sospetto che voi abbiate capito una cosa il primo è difficile entrare nel mondo ebraico antico e secondo che questi due grandi valori non sono di per sé interscambiabili ma sono uniti uno non può esistere senza l'altro non può esistere la misericordia la benevolenza la lealtà l'amore se non c'è la verità la sincerità l'onestà la giustizia la lealtà la fedeltà possiamo dire due facce di una stessa medaglia se vi pare ditelo pure ma questi sono i veri valori della morale biblica non il non uccidere non rubare questi sono cose di superficie la vera morale è lì in questa geset e in questa emet adesso capite perché quando Gesù dice che il comandamento che riassume tutto è il comandamento dell'agape che noi volgarmente traduciamo con amore Gesù sta dicendo questo non è l'amore che fa battere il cuore l'affetto il sentimento la passione ma è questo geset e emet insieme insieme si dice agape in greco l'insieme in ebraico non esiste viene sempre a dirle due cose Gesù l'ha riassunto in questa maniera cioè dietro ad ogni clausula dell'alleanza c'è un valore da rispettare è vero non dire falsa testimonianza c'è il valore della verità non uccidere c'è il valore della vita su questo siamo d'accordo chi lo discute ma non ha senso nel mondo biblico l'osservanza di queste cose di superficie se manca questa specie di profondo senso di pulizia mentale di lealtà di chiarezza contemporaneamente la fedeltà la verità eccetera eccetera per noi questo mondo così profondo è inesplorato perché nelle nostre civiltà non esiste ed è per questo che noi facciamo fatica a capire che cosa dice Agostino quando dice ama e fai quello che vuoi cioè possiedi questa emet possiedi questa chesed dopo puoi fare quello che ti pare però quando dentro di te fa parte del tuo DNA questo modo di pensare di vedere di percepire di decidere non c'è problema il Vangelo cerca di tradurlo in quest'altro modo dice Cristo al posto tuo che cosa farebbe questa dicitura è una dicitura occidentale e questa dicitura occidentale ti porta ad avere la stessa emet e la stessa chesed che aveva Gesù Cristo bene noi abbiamo parlato di un'alleanza che è osservata e che quindi viene vissuta con questa chesed e questa emet purtroppo però l'alleanza può essere tradita e viene tradita in che modo linea 87 velocemente perché mancano sette minuti e io devo cercare di chiudere questo concetto in modo che poi non ci torniamo più sopra ci resta nel bagaglio culturale e spero anche di mentalità per cui possiamo nelle prossime incontri procedere senza ripeterci dunque Israele può sbagliare non osserva le clausole ma perché non osserva la chesed e la emet e quindi di conseguenza salta l'osservanza delle clausole scatta il peccato secondo le benedizioni e le maledizioni del documento dell'alleanza scatta il castigo però noi sappiamo che il castigo di Dio non è mai per punire libri sapienziali lo dicono con chiarezza Dio non castiga per punire castiga per correggere e quindi quando Israele si accorge che Dio gli sta dando qualche sganassone perché c'è la siccità c'è il cattivo raccolto ci sono le cavallette c'è un'invasione c'è una pestilenza allora Israele dice orpo padre eterno mi sta tirando le orecchie bisogna che rimetta la testa a posto e allora Israele invoca la fine della calamità fino all'esilio cioè fino al sesto secolo Israele non sa chiedere perdono non c'è una preghiera di richiesta di perdono non c'è un atto pubblico penitenziale e neanche un atto privato penitenziale non esiste gli ebrei incominciano a saper chiedere perdono dall'esilio in poi quindi dal sesto secolo in qua la festa annuale dello Yom Kippur è post-esilica non è pre-esilica il giorno dell'espiazione giorno in cui Dio perdona tutto Israele è una istituzione post-esilica il processo bilaterale dove scatta il perdono di Dio se il popolo riconosce la sua colpa è un'istituzione prima profetica e poi sacerdotale post-esilica il sacrificio per il peccato volontario e per il peccato involontario è un'istituzione post-esilica la cosiddetta Todà tradotto in greco omologhia confessione è una preghiera dove prima si enumera tutti i benefici che Dio ha fatto al popolo ebraico e poi si enumerano i peccati cioè la risposta che il popolo ebraico dà a Dio è una preghiera che inventano nel post-esilio prima si fa l'atto di fede confessione storica della fede e poi si dice abbiamo peccato noi abbiamo risposto così e Dio perdona ancora quindi quella parola 87 perdono significa che Dio ristabilisce l'alleanza con Israele ma non è un perdono ancora vero e proprio come lo intendiamo noi è un ristabilire l'equilibrio Geremia proprio sull'inizio dell'esilio tutti quanti penso che ormai sappiate perché lo ripeto parecchie volte la prima invasione babilonese efficace è del 597 avanti Cristo prima deportazione distruzione delle mura 586 dieci anni dopo abbiamo la distruzione del tempio seconda invasione efficace perché dico efficace perché prima del 597 ce ne erano state altre due invasioni che non avevano combinato niente 597 586 583 la terza tra il 597 e il 586 Geremia che vede la prima distruzione annuncia la nuova alleanza dice non si può andare avanti così e Dio suggerisce a Geremia annuncia che cambieranno le cose e in questa nuova alleanza che cosa succederà linea 91 se voi leggete per conto vostro Geremia 31 31 34 scoprirete che non esisteranno più le clausole dell'alleanza perché Dio metterà la legge nel cuore nell'intimo sarà l'ahemet e l'aheset che Israele non ha mai incorporato dentro l'ha sempre avuta come qualità superficiale del proprio mondo religioso e Geremia dice no nella nuova alleanza sarà Dio che infilerà dentro questa realtà e tutti faranno esperienza di Dio in che modo eccolo là linea 91 l'uomo è fragile peccherà ancora ma non ci sarà più castigo e non ci sarà più l'invocazione perché Dio tolga il castigo perché non ci sarà più castigo dal peccato si passa direttamente al perdono tutti mi conosceranno perché io perdonerò il loro peccato punto parola castigo è scomparsa la linea 92 93 è un chiarimento di questa profezia di Geremia Geremia fa questa profezia all'inizio dell'esilio se è lui che la fa perché potrebbe darsi che sia un suo discepolo durante l'esilio c'è un profeta anonimo non mi stancherò mai di ripeterlo è il migliore nel libro di Isaia dal capitolo 40 al 55 troviamo la sua opera in questa sua opera ci sono quattro profezie chiamate i carmi del servo di Ave in queste quattro profezie il Deutero Isaia spiega perché la profezia di Geremia è vera e perché non ci sarà più castigo per l'uomo che pecca perché sarà il servo di Yahweh che assumerà su di sé il castigo meritato dagli uomini e quindi l'uomo è liberato dal castigo di Dio tutto questo avviene nella nuova alleanza io vi ho riportato le parole dell'ultima cena alla linea 97 bevetene tutti dice Matteo perché questo è il mio sangue dell'alleanza versato per molti e siamo al solito discorso voi non seguite certe finezze e ne avete tutta la ragione di questo mondo ma nel discorso che Bergoglio ha fatto a Firenze il sangue di Gesù non è stato versato per pochi non è stato versato per alcuni e non è stato versato neanche per molti ma è stato versato per tutti e chi lo ha detto al nostro santo padre pensionato a Ratzinger le l'ha detta chiaro e tondo non per pochi non per alcuni non per molti ma per tutti sono quelle finezze che chi è dentro ai problemi vi sa cogliere e la diplomazia vaticana in cui non si dice direttamente a Papa Ratzinger povero perché ormai è vecchio è giusto che muoia nella serenità e nella pace vi dice non sono d'accordo ma non va a dirglielo lo dice dentro un discorso molto più ampio dunque perché questo è il mio sangue dell'alleanza versato per molti in greco c'è polloi ovvio in remissione dei peccati Marco questo è il mio sangue sangue dell'alleanza versato per molti Luca questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che viene versato per voi Paolo questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me qual è il discorso che noi ricaviamo tra l'altro notate che la materialità delle parole di Gesù non le possediamo che che ne dicano alcuni di C.L. o alcuni tradizionalisti perché basta che leggiate dov'è l'egualianza noi abbiamo i concetti di Gesù su questo non ci piove sopra ma la materialità delle parole alcune volte sì altre volte no in questo caso quale parole Gesù ha detto nell'ultima cena notiamo che il pensiero lo cogliamo bene ma la materialità dei vocaboli no concetto è semplice quel sangue suo è la remissione dei peccati quindi non c'è bisogno del castigo Paolo lo dirà in maniera più esplicita Gesù ha scelto di essere maledizione per noi frase assolutamente enigmatica per chi non conosce quello che voi avete conosciuto questa mattina grazie buona domenica grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti